Ancora un episodio di violenza da parte di un uomo che ha come obiettivo una donna per le sue mancate attenzioni. Lunedì scorso, intorno alle 14.30, le pattuglie della stazione e del nucleo radomobile dei carabinieri di Fano sono state inviate con urgenza presso i bagni Maurizius, nel lungomare di Sassonia, dove è stata segnalata da diversi cittadini la presenza di un uomo che stava devastando il bar della spiaggia. I militari, una volta arrivati sul posto, hanno potuto constatare che il locale aveva subito numerosi danni, vetri, infranti, bottiglie rotte, una fettatrice lanciata fuori dal locale ed errate alimentari gettate e sparpagliate dappertutto e fuori dai frigo. Sono partite immediatamente le indagini che hanno consentito di identificare l'autore dell'azione violenta. Si tratta di un 58enne originario di Torre Annunziata, nel napoletano ma da tempo residente a Fano. L'uomo, ai militari, si è presentato completamente ricoperto di sangue per una ferita riportata alla testa durante una colluttazione avuta con il gestore del locale durante la sua scorribanda. Si è ferita anche una donna di nazionalità marocchina con regolare permesso di soggiorno in Italia, barista del locale, vittima delle intemperanze del 58enne. Il movente della furia devastatrice del campano è stato presto scoperto, la gelosia nei confronti della cameriera, sebbene non fosse contraccambiato dall'affetto della donna. Alcuni giorni prima lei aveva sporto denuncia per atti persecutori nei confronti dell'uomo che, invaghito di lei, la seguiva ovunque, arrivando a minacciare qualsiasi uomo che le si avvicinasse, benché fossero semplici clienti del bar. Dopo qualche giorno dalla denuncia, dietro la promessa che il 58enne avrebbe smesso di tormentarla, la donna ritira la propria denuncia. Ma come, ahimè, però troppo spesso avviene, la promessa è caduta nel nulla perché il 58enne si è presentato nel locale ed ha iniziato un'accesa conversazione con la donna. Il gestore, ormai stanco della situazione, ha chiesto all'uomo di lasciare il bar. Da qui è partito un diverbio con il gestore che, ben presto, dalle parole, è passato le vie di fatto con il persecutore che ha alzato le mani sul gestore del locale e ha provocato lesioni alla cameriera che nel frattempo aveva tentato di dividerli. Poi, accecato dalla gelosia, ha devastato il locale lanciando tutto quello che gli capitava a mano contro il malcapitato gestore e malmenando, non contento, anche diverse persone che tentavano di ricondurlo alla ragione. I tre, alla presenza dei carabinieri escortati dagli stessi, sono stati trasportati al 118, al pronto soccorso, dove sono state diagnosticate diverse lesioni che variano dai 10 ai tre giorni di cura. Dopo aver sentito anche numerosi testimoni e avventori del bar, l'uomo, mentre era ancora ricoverato al pronto soccorso, è stato dichiarato in arresto per atti persecutori, lesioni, minacce e danneggiamento aggravato. L'arresto, con il rito per direttissimo, è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Pesaro, il quale ha applicato nei confronti del Campano la misura del divieto di avvicinamento alla signora e del divieto di colloquio con la stessa e con il gestore del bar, rinviandolo però per il giudizio ad altra data.